Musica 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 Hello buon cacciotti, benvenuti su questo nuovo episodio è la prima volta che faccio il... un gameplay io sono Lail Limit e oggi abbiamo questo e in occasione abbiamo questo lo sapevo che prima o poi mi sarebbe stato utile allora questo è ancora il sigillo di garanzia è Spiderman Deluxe e lo vediamo insieme da quando l'ho comprato non vedevo l'ora di togliere questo andai via si andai via non si toglie con molta molta ho sentito ho sentito uno strappo molto strano con se si rimpesse esattamente qui a metà sarebbe anche molto più bello questo è il sacro momento allora vediamo un attimo che cosa abbiamo qui ci troviamo dentro qui il bozzetto dei il bozzetto dei disegni penso che cos'è? Spiderman The Art of Game cioè raga per chi se lo fosse perso questa era una prenotazione uscita a media world eh nel senso abbiamo tanta tanta roba da sfogliare ve la faccio vedere così se si vede qui che abbiamo oh mio dio oh mio dio lo voglio vedere tutto oh ma che trip che trip questa facciaccia di tutti quelli che sono comprati che gli è arrivato prima oh ma questo oh mio dio mi sto spoilerando parecchie cose sto spoilerando poi vediamo un attimo che cosa abbiamo abbiamo attenzione contiene spoiler non la prima prima di aver complicato la storia oh 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 benissimo ma non proprio bene ok abbiamo fatto ok avete forse subito uno spoiler enorme talmente grosso che solo io potevo farlo eh questo stava prima o dopo il libricino ok oh apriamo questo oh ma abbiamo il cofanetto in metallo no questo non l'avevo beh metallo metallo no è un alluminio ah non vedo l'ora di fare la registrazione vabbè qui abbiamo le solite cose e abbiamo anche il ragno adesivo adesivo ok con questo unboxing è tutto io da media world mi hanno anche lasciato il dlc questa cosa andava acquistata prima andava fatto con molta calma non la rimettiamo dietro io sono proprio in mezzo nell'eccitazione per farlo fuocaciotti per questo è tutto spero che questo spoiler enorme vi sia piaciuto insultatevi quanto volete adesso non vedo l'ora di farvi incazzare come le belve e io vado a giocarci quanti di voi non ce l'hanno